Qualche settimana fa, Alex Bovini mi ha chiesto di parlare di loop, prendendo come esempio di convertire tanti file PDF in JPEG. In questo video andiamo a vedere due modi possibili per eseguire operazioni su più file, cioè il comando find ed il costrutto for. Piccolo dettaglio, al posto di convertire dei file PDF in JPEG andremo a convertire dei file PNG in JPEG, ma il discorso è identico. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Iniziamo con l'installare il pacchetto ImageMagic, che contiene il programma Convert, che serve per convertire le immagini da un formato all'altro. Già che ci siamo, spostiamoci anche nella directory Immagini, giusto per non andare a sporcare l'aumento il mente. Prima di iniziare a lavorare su FileMultiply, voglio mostrarti una funzionalità della shell molto utile, la command substitution, cioè è possibile eseguire un comando ed usare lo standard output di quel comando come parametro di un altro comando. Prendiamo come esempio il comando basename. Il comando basename prende come argomento il percorso completo del nome di un file, che può anche non esistere, e mostra sullo standard output solo la parte finale del percorso. Quindi, per esempio, se indico come percorso home-free-immagine.png, otterrò come output immagine.png. Se come secondo parametro do l'estensione del file, in questo caso .png, basename mi ritornerà il nome del file senza estensione. E ora viene il bello. Nella shell bash, per effettuare la command substitution, utilizzo il carattere dollaro e metto il comando tra parentesi. Per esempio, uso il comando echo, prendo l'output di basename e gli aggiungo .jpg. Ed ecco che ora, magicamente, ho il nome del file con l'estensione cambiata. Come avevamo visto con le variabili, anche per la command substitution c'è differenza tra racchiudere i parametri tra singoli oppure doppi apici. Se racchiudo tra doppi apici, vedi che mi fa la command substitution. Se invece racchiudo tra singoli e apici, vedi che il tutto mi viene trattato come una semplice stringa. Questa è un'ulteriore conferma che quello che fa la differenza tra i parametri racchiuse tra singoli e doppi apici è sempre come viene interpretato il simbolo del dollaro. E passiamo ora al primo dei due metodi per operare su più file, cioè il comando find. Come puoi intuire dal nome, find cerca all'interno di una directory e delle sue sottodirectory dei file che hanno certe caratteristiche. Nella sua forma più semplice, find funziona in questo modo. Find, seguito dal nome della directory in cui vogliamo cercare, per esempio user share backgrounds, meno iname, che significa nome case insensitive, cioè senza distinzione tra maiuscole e minuscole, seguito da un pattern di globe racchiuso tra singoli e doppi apici, per esempio asterisco.png, per cercare tutti i file che hanno l'estensione png. E vedi che su standard output ho tutti i file che ha trovato, uno per linea. Notiamo un po' di cose. Prima di tutto vedi che ha trovato i file all'interno delle sottodirectory. Poi, torniamo a soffermarci sul comando dato. Nota come le opzioni defined non seguono lo standard GNU e quindi l'opzione meno iname è scritta con un solo trattino anziché due. Infine, è importante che il pattern di globe da dare sia racchiuso tra singoli o doppi apici, perché non vogliamo che la shell espanda il pattern di globe prima di eseguire il comando, ma vogliamo che sia find a capire qual è il pattern da cercare. Una cosa molto comoda è che find ci permette di eseguire un comando per ogni file trovato. Per esempio, per copiare tutti quei file nella directory corrente, posso aggiungere al comando precedente, meno exec cp, che è proprio il comando cp per copiare che abbiamo visto nei primi video. A questo punto dobbiamo specificare che vogliamo il nome del file trovato da find e per questo utilizzo la graffa aperta e la graffa chiusa, ma visto che le graffe la shell potrebbe interpretarle come brace expansion, è meglio metterle tra singoli e doppi apici. A questo punto diamo il nome della destinazione, in questo caso la directory corrente, quindi punto. Infine, devo dire a find che il comando da eseguire è finito, e glielo do con un punto e virgola, ma di nuovo, visto che la shell utilizza il carattere punto e virgola per separare un comando da un altro, devo racchiudere il punto e virgola tra singoli o doppi apici. Nota come find ha eseguito il comando cp una volta per ogni file trovato. Spesse volte find viene utilizzato in pipe con il comando xargs. Xargs prende lo standard input e ogni parola o linea dello standard input la usa come argomenti del comando che gli specifichi. Per esempio, se voglio creare un archivio targz con i file trovati, posso partire dal comando find pipe xargs tar cvzf, seguito dal nome del file da creare, per esempio sfondi.tar.gz. Il comando tar a questo punto si aspetterebbe che gli venissero passati i nomi dei file da comprimere come prossimi parametri, ed in questo caso ci pensa xargs a passarglieli in base all'output di find. E nota come ha creato un archivio da 6,9 mega con i file trovati. Una cosa, devi stare attento ad usare find in pipe con xargs se find trova dei nomi di file che contengono spazi, in quanto xargs tratterebbe gli spazi come parametri differenti. Per essere sicuri che il comando find in pipe con xargs funzioni correttamente anche quando i nomi di file contengono spazi, occorre mettere l'opzione "-print0", al comando find, per dirgli di separare i nomi di file col carattere null, e dare l'opzione "-0", a xargs, per dirgli che lo standard input è separato dal carattere null. Ed ecco che ora il comando funziona sempre, indipendentemente dai nomi dei file trovati. Il comando find è davvero potentissimo, ma in me anche abbastanza complicato da usare. Se vuoi un approfondimento, in descrizione trovi un link ad un tutorial molto più esaustivo. Passiamo infine al secondo metodo per operare su più file, che è quello del costrutto for. Qui entriamo un po' nel territorio della programmazione, ma il costrutto for non fa nient'altro che, partendo da una lista di stringhe, assegnare ad una variabile il contenuto della prima stringa per il primo ciclo, quello della seconda stringa per il secondo ciclo, e così via. Questa variabile la possiamo poi utilizzare un po' come vogliamo nei vari comandi. Per esempio, se voglio convertire tutte le immagini png della directory corrente in jpeg, posso dire for, poi nome della variabile. Qui posso scegliere il nome che più mi piace, ma io scelgo la lettera f che mi ricorda che si tratta di un file. Parola in, che serve al costrutto for per indicare che è quello che segue la lista di stringhe. Poi, per la lista di stringhe posso usare veramente qualunque funzionalità della shell che conosciamo, dalla brace expansion alla command substitution. In questo caso viene molto comodo il globe, quindi indichiamo asterisco.png per dire tutto il file con estensione png. Carattere punto e virgola e parola do che sono tipiche della shell bash per fare il costrutto for. A questo punto, tra le parole do e done, che vedremo fra poco, c'è il corpo del ciclo for, e in questo corpo abbiamo a nostra disposizione la variabile $of che ogni volta avrà il valore di una delle immagini png. Quindi, usiamo il comando convert di MageMagic, dandogli come primo parametro il file che vogliamo convertire, quindi $of. Racchiudo $of tra doppi apici perché il nome del file potrebbe contenere degli spazi e non voglio che questi spazi vengano interpretati dalla shell come parametri separati. Come secondo parametro do il nome del file di destinazione. Qui ci viene comoda la command substitution che abbiamo visto poc'anzi. Quindi $o aperta parentesi, basename, $of tra doppi apici, .png, .jpg. Alla fine diamo la parola done per concludere il ciclo for ed eseguirlo. E vedi che abbiamo convertito in jpeg tutte le immagini png. Concludendo, abbiamo visto che sia il comando find che il costrutto for sono molto utili per eseguire operazioni su più file contemporaneamente. Abbiamo inoltre imparato il comando xargs e la command substitution che si rivelano molto utili per generare dinamicamente i parametri dei comandi. Ringrazio ancora Alex Bovini per avermi dato l'idea di convertire diversi file immagine da un formato all'altro come esempi per questo video. Se anche tu vuoi che io tratti un argomento in particolare nei prossimi video, fammelo sapere scrivendo un commento qua sotto. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odissi. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!